Paolo Rachini inizia la stagione del Francavilla, quella ufficiale perché c'è il primo match di Coppa Italia, facciamo però un passo indietro, ci sono stati comunicati ufficialmente i gironi, un'impressione, un'idea sul campionato che farà e che sarà del Francavilla quest'anno? Un bel campionato, un bel girone, squadre importanti, Forlì, Cesena, Sant'Arcangelo, squadre blasonate oltre a quelle che c'erano anche lo scorso anno, quindi Pineto, Avezano, Vastese, un bel girone, siamo tutti carichi e ovviamente aspettiamo l'inizio 16, molto fiduciosi anche perché diciamo che in questi 40 giorni abbiamo lavorato molto bene quindi ci stiamo preparando proprio per partire al top. Non è facile sicuramente avere questi blasoni però è uno stimolo in più per lavorare bene, andare comunque in uno stadio ad esempio come il Manuzio, uno stimolo per i giocatori, per la squadra, affrontare poi il blasone del Cesena, può essere un'arma in più, non è detto che deve. Sicuramente, sono campi difficili, si va a giocare davanti a 5, 6, 7 mila persone però penso che per un calciatore poi alla fine è quello lo stimolo per fare sempre di più, vedere tutta quella gente e cercare di dimostrare in campo che si è all'altezza, alla loro altezza insomma. Prima gara ufficiale dicevamo in Coppa Italia con il Giulianova, come arriva il Francavilla alla gara? Il Francavilla arriva molto preparato, ovviamente abbiamo avuto qualche problemino, quindi qualche giocatore ha avuto dei problemi però la rosa è competitiva quindi sono molto contento, ci siamo preparati bene, affrontiamo una squadra secondo me molto esperta, una squadra di categoria, giocatori importanti quindi davanti al nostro pubblico ovviamente ci teniamo a fare bene. Poi ci sarà l'inizio del campionato però con il Giulianova che partita sarà? Sarà una partita difficile perché comunque è una neopromossa e che ha voglia di fare bene il Giulianova? Per me sarà una partita equilibrata sicuramente, è una squadra che si difende molto bene e poi ha giocatori davanti che sfruttano la palla che gli concedi e te la possono buttare dentro. Quindi dobbiamo essere concentrati e attenti per 90 minuti, la partita va giocata negli altri 90 minuti quindi bisogna avere pazienza perché ripeto loro si difendono bene, noi abbiamo provato determinate cose in settimana e se le facciamo possiamo mettere in difficoltà il Giulianova però ripeto è una squadra da temere e da rispettare però io sono contento e ottimista.